Registrazione E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video Oggi dopo il video che in realtà sarebbe dovuto uscire Questo video che sto registrando ora la settimana scorsa ma purtroppo non è uscito Oggi vi voglio parlare degli hosting condivisi Cos'è un hosting condiviso? Un hosting condiviso è uno spazio illimitato cosiddetto dalle aziende Dove si può creare il proprio sito internet Come funziona? Beh funziona molto molto semplicemente Con delle limitazioni che vengono impostate dai vari gestori di spazio internet Come ad esempio direttive PHP, direttive MSQL Insomma tutte le direttive E poi funziona tramite l'assegnazione di un determinato spazio Ad esempio Se il vostro sito internet pesa 10 GB Vi trovate su un hosting dove c'è molto traffico C'è molti siti internet Verrete spostati in un hosting più libero E questo si chiama loud balancing Sì, loud balancing Questo consente appunto di liberare Cioè di spostare il proprio sito in server più scarichi Per migliorarne la funzionalità e anche la velocità di agriamento Invece se un sito occupa poco spazio e poco visitato Viene spostato in server più carichi Per lasciare spazio ad esempio a siti che hanno bisogno di più risorse Poi lo spazio illimitato Lo spazio illimitato come viene detto dagli gestori Non esiste Perché non esiste un hard disk con spazio illimitato Gli hard disk Possono essere al massimo da 15 TB Di spazio Scusatemi Poi Direttive PHP Le direttive PHP di solito negli hosting condivisi non sono tutte abilitate Anzi ci sono molte direttive che sono disabilitate per motivi di sicurezza Perché infatti dovete sapere che Molte direttive PHP potrebbero rendere alcuni siti più insicuri Più vulnerabili per i software che vengono utilizzati Tipo Wordpress non aggiornato o le cose del genere Quindi ragazzi Questo video termina qua Se vi è piaciuto lasciatemi un commento e un like Visitate info-shake.it Trovate il link in cima alla descrizione E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti